L'intenzione del pezzo è quello di farvi sentire l'immunismo topicale spazio a mezzo al male, in cui tutta la natura è l'unica selvaggia, in cui cresce una meditazione molto irraggente e un po' stordice. Questa è il carnavalo. 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 Sì Questo sì che è un mezzo, non quel casino di prima Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.